Il 21 dicembre saranno passati due mesi da quando Samira è scomparsa. In questi due mesi il caso della donna di Stanghella sparita nel nulla si è fatto sempre più complesso e ingarbugliato. Ora, a rendere ancora più complicate le indagini, arriva l'ultima dichiarazione del marito Mohamed Barbri, il quale, tramite la trasmissione Chi l'ha visto? Direi tre, con una dichiarazione rilanciata dai media locali, consiglia agli inquirenti di cercare Samira nei casolari di Solesino, località che confina con Stanghella. Non è dato sapere da dove Mohamed abbia preso questa informazione e su quali elementi sia basata, ma la dichiarazione arriva in seguito al ritrovamento, sempre da parte del marito, di svariati oggetti della 43enne scomparsa, un portachiavi, una scarpa, una maglietta e una collanina, tutti rinvenuti nei pressi dell'abitazione dei due. Questi improvvisi ritrovamenti vengono visti dall'opinione pubblica come possibili tentativi di depistaggio, ma non ci sono prove di questa tesi e quindi tutto resta nel campo delle ipotesi. Quel che è molto reale invece è l'iscrizione nel registro degli indagati di Mohamed per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Samira insomma non si trova né viva né morta e ogni volta che delle povere ossa emergono dal litorale o che un corpo viene recuperato dai fiumi del Veneto si rinnova la sicurezza dei media nazionali e lei potrebbe essere lei. Invece di Samira non c'è traccia e di tutto ciò resta una sola certezza che nessuno sa dov'è o forse una persona lo sa.